Ternity è parte del progetto Art Basel Cities, curato per Cecilia Alemani, la curadora italiana basata in Nuova York. Questa settimana si articolerà in moltissimi eventi, invitando gli artisti a usare la città come una grandissima tela o come un grandissimo piedistallo. Siamo in fronte della obra di Maurizio Cattellan, Eternity, in uno dei spazi pubblici di Buenos Aires. Come potete vedere, si tratta di tombi di essere viventi. È una maniera abbastanza ironica di affrontare il tema della morte. Per noi, come l'Istituto Italiano di Cultura, è un momento di vedere l'arte contemporaneo italiano qui in Buenos Aires. Grazie. 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 Grazie.